Uno scontro con un giovane sciatore inglese, non gravissimo secondo le testimonianze. Rizzeri-Ongaro resta a terra dolorante alla schiena ma cosciente. Ai soccorritori chiede di avvisare la moglie Luciana e da loro il numero di telefono. Sulla pista Fertazza, in comune di Selva di Cadore, atterra l'elicottero del Suem, ma nel giro di poco tempo le condizioni di Ongaro si aggravano al punto da costringere i sanitari a intubarlo e a decidere per il trasporto all'ospedale di Treviso. Rizzeri-Ongaro muore durante il viaggio. 78 anni, amministratore di lungo corso, sindaco di Ciencenighe per 10 anni dal 97 al 2007, poi vice sindaco per altri due anni, presidente della comunità montana gordina dal 2000 al 2009, assessore provinciale all'ambiente, presidente dell'IPA e vice presidente del GAL Alto Bellunese. Una figura di spicco della vita amministrativa e politica gordina e bellunese, preparato, disponibile, attento ai bisogni del territorio, mai burbero, ottimista e sempre sorridente. Dopo la scomparsa di Floriano Prae di Elio Dauru, la gordino perde una delle sue figure di spicco. L'incidente sugli sci è accaduto ieri mattina, la notizia della sua scomparsa si è diffusa in serata. La montagna perde uno dei suoi uomini più appassionati, un amministratore capace e lungimirante, scrive il presidente della provincia, Roberto Padrin, e al suo messaggio si uniscono quelli di tutte le istituzioni locali. Il presidente della regione stamani ha ricordato gli anni spesi da Ongaro per il bene e nell'interesse della montagna. Era spinto dall'amore per la sua terra e dalla voglia di rendersi utile al suo progresso, affermato Luca Zaia. Rizzeri Ongaro mancherà a molti, prima di tutto alle sue montagne.